VOLLEY SUPERLEGA È dedicata al volley e alla Superlega perché la Sir Perugia ha iniziato con il sorriso il 2018 battendo al palevangelisti il Piacenza e mantenendo il primato in classifica. Mercoledì si torna in campo a Milano in servizio. La Sir Perugia ricomincia esattamente come aveva concluso l'anno vecchio, ovvero vincendo. E riprende consolidando la vetta della classifica di Superlega. Nel primo turno del 2018 il sessetto di Bernardi piazza un perentorio 3-1 alla Piacenza. Con uno Zayzev ritrovato. Il martello azzurro viene designato MVP della gara non solo per i 16 punti ma anche per la prestazione di grande spessore e carisma nelle fasi clou. Dopo l'equilibrio dei primi due set finiti uno per parte, 25-21 per Perugia e 25-19 per Piacenza, la squadra di casa trascinata dal solito tifo caldissimo del palevangelisti prende le redine della partita. Trascinata da un Atanasievic sempre efficace, 21 punti per lui, e dalle salvifiche difese di Colaci, oltre che dagli attacchi dello ZAR. 25-18, 25-19 i parziali di terzo e quarto set che regalano al sessetto di Patron Sirci tre punti importanti. Con questa vittoria il sestetto di Lollo Bernardi mantiene la vetta della classifica a 42 punti ad un punto dalla Lube Civitanova. Vittoriosa a sua volta ma lunga su Modena che ha vinto, sì, ma solo al tie-break contro Milano, prendendosi due punti e salendo a quota 38 a meno 4 dai Perugini. E proprio a Milano sono attesi i bianconeri Perugini mercoledì sera per il turno infrasettimanale. E ora il calcio perché se da un lato è stato un fine settimana di relax agonistico in Serie B e Serie C, vista la pausa dei campionati che prosegue sino al 20 gennaio, è il mercato ad imperversare. In Serie C il Gubb è tornato ad allenarsi ieri in attesa di qualche news dal mercato, soprattutto in uscita. Oltre ai vari Paolelli, Fumanti, Conti, Manari e Ielov, hanno diverse richieste anche Volpe, Burzigotti, Calombo e Casiraghi, ma l'obiettivo della società è quello di trattenere i pezzi pregiati della Rosa, almeno sino a giugno. In entrata invece l'obiettivo principale resta l'innesto di un centrocampista con Obodo della Vibonese e Favasuli della Cavese. I nomi principali si attenua al momento la possibilità di un ritorno del difensore Rinaldi, mentre per l'attacco occhi puntati su Lanini, in uscita da Vicenza e già nel radar del DS Pannacci dall'estate scorsa. Gubbio che tornerà in campo il 20 gennaio contro il Mestre Albarbetti, intanto entro le prossime 72 ore si conoscerà il destino del Vicenza Calcio con il neoproprietario Fabio Sanfilippo chiamato ad evitare il fallimento, dunque un nuovo caso dopo quello di Modena. Per il calcio italiano sarebbe la fine di una realtà sportiva che ha segnato pagine importanti anche in Serie A, soprattutto negli anni 70 e 2000, mentre per il girone B di Serie C un secondo flop dopo quello di Modena che renderebbe praticamente inutile la questione salvezza. Ha ripreso ad allenarsi ieri anche il Perugia con Breda che può contare anche sugli innesti del portiere Leali e del difensore ex Parma Germoni. Il presidente Santopadra ha dichiarato incedibile il cannoniere di Carmine, almeno sino a fine campionato, mentre altri elementi come Belmonte, Brighi e Falco potrebbero partire di fronte ad una richiesta importante. In uscita anche i vari rosati Emanuele Mustacchio, mentre oltre ad un possibile ritorno di Acampora per il centrocampo si seguono anche le piste che portano ai foggiani Bacch e Deli. I grifoni torneranno in campo per la prima di ritorno il 20 gennaio contro l'Entella Alcuri di calcio dilettante. Invece ci occuperemo nei prossimi appuntamenti. Apriamo ora una pagina sul mondo della subacquea con l'iniziativa di successo per il Crazy Sub Club Gubbio che ha aperto il nuovo anno con un incontro dedicato al mondo degli squali con il massimo esperto italiano, il professor De Maddalena. Vediamo. Interessante e partecipata iniziativa dell'associazione Crazy Sub Gubbio che presso la propria sede in via Leonardo da Vinci ha organizzato la conferenza dal titolo Gli Squali Bianchi del Sudafrica. Ospite d'eccezione Alessandro De Maddalena, uno dei maggiori esperti di squali del mondo, autore di 20 libri sul tema e docente di zoologia dei vertebrati per il corso di laurea in Scienze Marine delle Università degli Studi di Milano Bicocca. La conferenza ha coperto diversi temi, dalla biologia dello squalo bianco alle tattiche predatorie della specie, dall'osservazione degli squali bianchi nel loro ambiente fino alle immersioni in gabbia e alle relazioni con l'uomo. Io tengo queste conferenze a fine, primariamente educativo. Tante persone non conoscono un granché sugli squali, in particolare sullo squalo bianco. Voi sapete che tantissimi media continuano a insistere su questa immagine falsa dello squalo assassino, del killer, che è un'immagine completamente falsa, creata dal regista Steven Spielberg nel 1975. Gli squali veri non hanno niente a che fare con questa immagine. Basti pensare che ogni anno, se prendiamo in conto tutte le 500 specie di squali che esistono, ci sono soltanto una decina di persone che vengono uccise dagli squali in tutto il mondo, all'anno. Nello stesso periodo di tempo ne uccidiamo circa 70-100 milioni di squali. Quindi ovviamente il killer non è lo squalo, ma sugli esseri umani. Di fatto ci stiamo mangiando tutte le risorse del pianeta. Ecco che quindi penso che fare serate del genere, nelle quali le persone possono parlare con gente che studia veramente questi animali e che li conosce bene e può rispondere alle loro domande, sia particolarmente utile per la conoscenza e la conservazione di questi animali. La conferenza è parte di un tour mondiale che ha avuto inizio nel 2011 e continua tutt'oggi, avendo totalizzato oltre 80 dati in 13 paesi, con un'affluenza di oltre 8 mila spettatori. Tra le molte prestigiosi istituzioni che hanno ospitato la conferenza vi sono state le Università di Milano e Napoli, il Museo Oceanografico di Monaco, l'Istituto di Biologia Marina di Parigi ed il Museo di Storia Naturale di Vienna. Gubbio si è iscritta grazie alle Cresi Sub Club in questo percorso virtuoso di informazione. Si tratta di una questione culturale, nel senso che la gente deve imparare a conoscere quello che ci circonda e evitare di bere, nel vero senso della parola, qualsiasi notizia venga data dai mezzi di informazione. Come lui stesso ha detto, non esiste lo squalo assassino, non esiste l'orca assassina, c'è un solo animale purtroppo al mondo che si diverte a uccidere per vendetta o per divertimento, ed è l'uomo, guarda caso. E quindi, sempre restando nell'ambito di quelle che sono le iniziative dell'Associazione Subacqua, che ormai porta avanti da tantissimi anni, quella di questa sera non è altro che un arricchimento per noi stessi innanzitutto, ma anche per chi ha voluto partecipare. L'Associazione Subacqua Crazy Sub di Gubbio non si ferma, come non si è fermata nei tempi passati ai soli corsi, ma ha sempre proposto delle serate a tema e questa di questa sera veramente ci inorgoglisce, per la presenza del professore Alessandro De Maddalena. Grazie per averci seguito, a voi una buona serata. Grazie per averci seguito, a voi una buona serata.